Per me questo è il più bel festival del cinema che si fa in Italia, è più bello di Venezia, è più bello di Roma, è un piccolo festival fatto con l'eroismo del volontariato e con la consapevolezza di una grande visione culturale. Siamo orgogliosi che da qualche tempo si faccia a Napoli, si faccia negli spazi della cultura del comune. Abbiamo scovato per ogni continente una situazione che ci è sembrata molto rappresentativa della realtà che stiamo vivendo, quindi in otto giorni contiamo di dare un resoconto abbastanza completo di quella che è la nostra visione della difficoltà che i diritti umani stanno vivendo in questo momento nel mondo. Io credo che il cinema abbia una potenza tale come linguaggio, come rappresentazione, come denuncia da poter uscire dai confini delle sale, dei punti d'incontro e attraversare le città, attraversare le coscienze delle persone, quindi stiamo restituendo al cinema il compito di testimone del nostro tempo. Il fatto che lui venga dapprima ad incontrare i detenuti di Poggio Reale, poi la sera del primo dicembre al teatro di Piazza Forcella incontrerà il nostro pubblico, ci sembra un momento importantissimo, però non bisogna sottovalutare la presenza di donne coraggiose come Maria Elena Benitez che viene dal Peru ed ha costruito una rete di formazione per il cinema soprattutto nei paesi più poveri, un'iniziativa rivoluzionaria che da 30 anni esiste e poi Ifat Fatima che è un'attivista del Kashmir, uno dei paesi più militarizzati del mondo, una guerra infinita che ci ha sorpreso per la durezza, la brutalità e il ricordo di queste sparizioni forzate che ci richiama inevitabilmente i desaparecidos argentini a cui siamo stati legati per tanti anni. Perché questo è il tema fondamentale, il terreno decisivo di conflitto culturale, di conflitto ideale nel mondo di oggi. Mi verrebbe da dire che per trovare un giudice bisogna andare in America, negli Stati Uniti, dove c'è un giudice che blocca la violazione dei diritti umani da parte di quello che viene considerato l'uomo più potente del mondo, il presidente Trump. Purtroppo in Italia accade esattamente il contrario e quindi in qualche modo c'è una disattenzione, un'indifferenza, un regredire rispetto a questa decisiva questione di umanità e di civiltà e così ci perderemo e perderemo noi stessi. Grazie. 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 Grazie.